Questo lavoro che abbiamo recentemente pubblicato su Communication Biology è il frutto di un lavoro iniziato all'Istituto Regina Elena nel laboratorio di Anna Maria Biroccio e poi proseguito nell'Istituto nel quale attualmente lavoro, ovvero all'Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR. In questo lavoro abbiamo identificato una nuova interazione tra una proteina dei telomeri, ovvero delle estremità dei cromosomi umani, TRF1, e un'altra proteina che è un regolatore chiave di vari processi cellulari e che è anche un target per una terapia farmacologica attualmente in uso in clinica in diversi tipi di tumori, in particolare nel carcinoma della mammella e nel carcinoma dell'ovaio. Questa nuova interazione in particolare svolge un ruolo chiave per la replicazione del DNA nelle regioni telomeriche, quindi nelle regioni terminali dei cromosomi, ed è particolarmente rilevante come target terapeutico in quei tumori che hanno un alto tasso di replicazione. Speriamo che possa aprire la strada a nuove applicazioni terapeutiche che possano vedere coinvolti come target proteine che regolano la struttura e il mantenimento dei telomeri, che sono dei siti strategici per il DNA umano, per mantenere l'integrità del DNA umano, e in combinazione con questo target terapeutico già noto che è la proteina PARP1. Grazie a tutti.